Motonave Asia, alle 9 del 22 settembre, avalicato l'ingresso del porto di Genova, fra colpi di sirena festosi, il desiderio di quanti s'affacciavano ai terrazzi del pontile Doria, sembrava volesse spingere più celermente le manovre caute del Colosso. Finché, all'apparire alle murate di prua degli otto reduci del K2, il sentimento di quelli in attesa è esploso in una serie di saluti, di chiamate sempre più festose e altisonanti, tra un frenetico agitarsi di mazzi di fiori. Tra uno scoppio e l'altro di saluti fragorosi, a un tratto si levò il coro dei valdostani che cantavano Montagne Valdotè. Montagne Valdotè 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 La paese del volo Di mon pied, di mon pied La paese del volo Alcaldà, le montagnà, le montagnà 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 Sola